Qual è la connessione tra estradiolo e cancro? La ricerca scientifica ha stabilito che esiste una relazione causale tra estradiolo e cancro, con l'estradiolo, un ormone, che aumenta il rischio di cancro promuovendo la crescita maligna delle cellule del seno. Questa relazione causale negativa è più probabile quando c'è un'abbondanza di insulina nel corpo. L'estradiolo, una forma di estrogeno, attiva in particolare l'espansione di alcune cellule del seno MCF7 che hanno recettori per gli estrogeni, ER, gli scienziati hanno trovato. I ricercatori ritengono che queste cellule ER positive, quando vengono stimolate, innescano un ciclo di crescita cellulare ingiustificato a meno che non ci sia un'assenza di insulina. Senza l'insulina e senza le cellule dei recettori estrogenici, l'estradiolo potrebbe non generare una crescita cellulare maligna, la ricerca ha trovato. La connessione tra estradiolo e cancro può essere il risultato di qualcosa di più della semplice capacità dell'estradiolo di indurre le cellule a sintetizzare il DNA e iniziare a proliferare. Gli scienziati ritengono che i radicali dell'ossigeno siano un altro fattore chiave nell'estradiolo diventando un vero rischio di cancro. Gli studi hanno a lungo indicato che i radicali liberi dell'ossigeno possono portare al cancro danneggiando le cellule altrimenti sane, l'estradiolo, secondo gli studi, è pericoloso perché può produrre i propri radicali liberi dell'ossigeno nelle cellule ER positive. Mentre l'estradiolo è principalmente legato al cancro al seno, può anche causare il cancro dell'utero e dell'endometrio. In quantità normali, l'estradiolo e il cancro non sono collegati. L'estradiolo è effettivamente necessario e benefico per le donne perché governa il corretto sviluppo femminile. Per esempio, l'estradiolo, che viene prodotto naturalmente nel corpo femminile ogni giorno, guida lo sviluppo e il mantenimento dell'utero, dei seni e delle tube di falloppio di una donna. Questo ormone steroideo governa anche il modo in cui il grasso si deposita sul corpo di una donna, guidando la forma della sua figura. Insieme ad altre due forme di estrogeni estriolo ed estrone l'estradiolo aiuta a regolare le mestruazioni femminili e la gravidanza. I rischi di cancro si verificano quando la presenza di estradiolo nel corpo è eccessiva, a volte ciò è causato da farmaci che contengono estradiolo da altre fonti animali. Questo supplemento terapeutico di estradiolo è spesso parte della terapia ormonale sostitutiva femminile per condizioni come la menopausa. L'ormone potrebbe anche essere presente in alcune forme di controllo delle nascite e in alcuni cosmetici. Queste esposizioni ambientali e mediche aumentano il rischio che le donne incontrino il pericoloso legame tra estradiolo e cancro. Inoltre, poiché l'estradiolo usato occasionalmente in alcuni medicinali veterinari, tracce di ormone possono finire in alcune carni e latte, secondo alcuni rapporti medici. Il legame tra estradiolo e elevato cancro può essere combattuto con farmaci antiestrogeni. I medici hanno scoperto che alcuni antiestrogeni steroidei possono arrestare la crescita del cancro dall'estradiolo e persino prevenirlo del tutto.